È un tavolo su cui bisogna lavorare con l'ecchio, ho trovato una recente capacità di dialogare oppure è solamente perché volete uno spot per chissà quale scenario lungo, quello che è un punto visto che già mi hai parlato da anni, poi si è ripreso, ma si è lasciato e probabilmente la realtà delle tavole non è un progetto ambizioso ed è molto difficile. Perché i campanini ci sono stati e ci saranno sempre, ma io penso che più che proprio i consiglieri io penso che proprio i cittadini non sono ancora pronti perché dopo aver pubblicizzato fortemente questa iniziativa si è cominciato a parlare, poi io mi freggio, voglio dire, fatti essere un buon ascoltatore, voglio dire, cerco di pungolare quando cammino verso il vento i cittadini che cosa ne pensano, non è che ho trovato grande entusiasmo e questo secondo me sarà identico negli altri comuni. Quello che succede sulla viabilità è uno dei problemi reali perché noi siamo cresciuti come territorio ma non siamo cresciuti come infrastruttura, pertanto io penso che se le attività, la nostra accoglienza aumenta sempre di più come è pensata quest'anno, già pensare il prossimo anno di fare le stesse presenze di quest'anno, comunque il territorio ne soffre sotto l'aspetto della viabilità e allora ogni sindaco cerca di tutelare le proprie comunità. Secondo me se si parte, perciò dicevi, se si parte dall'associare alcuni servizi essenziali, secondo me si comincia a capire che cosa è l'utilità di stare insieme. Adesso non so se il comune di Vicheguenze l'ha già pubblicizzato ma ha fatto una riunione per il primo dicembre proprio per tutti i comuni per parlare proprio di polizia municipale associata, in funzione proprio, secondo me, della viabilità. Io penso che lì è una questione di sicurezza sul costone, qua invece è proprio di viabilità punta perché nel piede lessivo Vinco soffre il tunnel che pensavamo che per noi risolvesse dei problemi che diciamo nei dieci mesi all'anno certamente li ha agevolati però Vicheguenze è obberata di traffico. Allora ragionare tutti quanti insieme certamente avremo una forza anche nei confronti degli enti sovraccomunali diversa. Cioè è una mentalità che deve crescere nella cultura di ogni singolo cittadino della penisola. Certamente questa operazione non può essere fatta anche perché non teniamo gli strumenti per farla di imperio, bisogna farla con la partecipazione, il percorso finale del referendum. Anche se è molto diverso rispetto al passato perché il referendum non c'è bisogno di raggiungere quorum, è molto più semplice. Però secondo me va molto partecipata perché certamente togliere i comuni è la loro storia, voglio dire è un atto forte politicamente e pertanto è giusto che venga maturata bene. Ma l'identità non dà tradizione, però teniamo quasi tutti quanti la stessa tradizione, però è proprio la gestione del quotidiano che viene a cambiare perché il sindaco di un comune di 80.000 abitanti, certamente non conoscerà come io conosco tutti i sorrentini, voglio dire così, come il sindaco di San Daniello, di Piano. Saranno fatte scelte politiche e non più scelte probabilmente per conoscenza. Il rapporto anche con l'amministrazione sarà diversa rispetto al passato. день. Si North switch 0 0 0 0 0 0 0 0